Bella a tutti ragazzuti e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft, io sono Maullo941 e oggi nuovo episodio signori Allora prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per il suggerente e per il supporto che lasciate a serie e a canale Signori vi ricordo di iscrivervi, abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno Io ce la sto mettendo tutta signori, ma mi serve anche il vostro impegno che non è chissà che cosa Basta semplicemente un click sul pulsante e mi piace, seguire il canale, mettere anche un bel like e un commentino tecnico-tattico come direbbero i youtuber, quelli bravi E io sono sempre pronto a rispondervi signori e a darvi dei... e accettare sempre i vostri consigli e anche le vostre critiche Signori, cosa facciamo nel video di oggi? Oggi è altro video rilassoso, intanto guardate i tre bambù che stanno crescendo dentro il villaggio dei villaggeri Quindi l'episodio è molto molto tranquillo, intanto una piccola cosa, qui la tartaruga è diventata enorme e sta sempre su questi blocchi di sabbia L'altra invece è nata e l'ho vista gironzolare nell'acquario signori, ora non riesco più a beccarla Anche perché con quest'acqua viola non si vede... viola, con quest'acqua verdina non si vede nulla Però l'altra tartaruga piccola signori l'ho vista nuotare a mare, quando si svilupperà la si vedrà più facilmente sicuramente Ora non si vede un cacchio signori, no, non si vede da nessuna parte, dobbiamo andare a prendere altri pesci comunque E anche un altro axolot Allora signori, cosa facciamo in video oggi? Oggi video rilassoso Video rilassoso, andiamo a farmare un poco di queste cose qui luminose Le andiamo a mettere sotto il nostro bellissimo, la nostra bellissima zona di lancio E ci illuminiamo quella zona di lì Prima però voglio cercare il mio bellissimo, non il cartografo ma il... come... quello? Lui se non sbaglio Sì, perfetto, che mi dà la mappa dell'esploratore a floresta e la mappa degli oceani Perfetto Vuole 13 smeraldi e un compasso e vuole 14 smeraldi e un compasso Stiamo nella merda più totale signori, bene così Ok, dovremmo farmare un poco di carta e di vetro Decisamente sì, perché signori, nei prossimi appuntamenti andremo a recuperare questi due tipi di mappe E andremo a trovare sia un monumento degli oceani Sia la maggiore signori Sì, 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 io non ho mai... sia anche la maggiore signori Sì, così vediamo se riusciamo a ottenere qualche totem So perfettamente che si può fare la farm di... 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 di quelli là che... che ammazzi e ti danno i totem Che non mi ricordo gli evocatori So perfettamente che si può fare Ma attualmente non... non mi ricordo neanche dove è il... 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 la torre dei pillager Per poter fare una cosa, per portare i pillager è troppo complicata No, andiamo là, ci becchiamo uno di quegli evocatori Uno di quegli evocatori, vediamo se ci dà il... il totem e siamo tutti contenti signori Allora, facciamo le cose che ci siamo stabiliti di fare Con molta calma e tranquillità Per prima cosa, ehm... dobbiamo riprodurre un poco di queste... di queste gemme qui Che non mi ricordo come cazzo la si chiama Sicuramente ne avevamo alcune a casa Ora, se io faccio così, loro due mi dovrebbero droppare in maniera aiosa Non ce ne servono aiosamente aiose Eh... 19 già, forse ci potrebbero anche bastare 19 Ma noi siamo... siamo qui per... non so che cosa Siamo qui per, così Eh... siamo a 31, 31, 31, 31, 31 e 31 mi bastano a cazzarola 31 mi... mi bastano come 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 non so che cosa Allora, sta accadendo la notte I cazzaroli di gatti sono sempre in giro per il nostro mondo Bene, così Ma stiamo sparando così? Cresce? No, mi metto una torcia Non mi serve la torcia lì Quindi il bon mille sulle canne da zucchero non funziona Ho scoperto un'altra cosa, non lo sapevo Posiamo il bon mille E questo già è uno step importante Poi... 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 sapete che potremmo anche fare molto carine? Delle torce... delle lanterne attaccate a delle catene Io però sto finendo tutto il ferro per fare 6 cagate di lanterne Ci serve almeno 4 4... 4... se non sbaglio qua io dovrei avere altro No, qui... altro ne ho altre 10 Ok... leviamo le... le torce da qua e andiamo a fare delle lanterne Lanterne... lanterne... che canzi fanno così le lanterne? Lanterne... no... perché... sì... perché sono scemo io Scusate... sono scemo io Non posso farlo da qua ma devo farlo da qua Le lanterne... lan... lanterne... perfetto Me ne devi fare almeno 4 1, 2, 3 e 4... perfetto E le lanterne le riusciamo a fare Mi devi fare anche le catene Catene... dirai... ma a questo punto perché hai fatto... Allora... ne mettiamo 2 per cosa? Che secondo me ci sono carina Quindi 1 e sono 2 4... eh non ne posso fare solo 2 Che cazzo lo dici? Ah ok... perfetto Dobbiamo fare altri di questi Interessante questa cosa Mi basteranno 18? Penso di sì E siamo 4... ok... altre 2... perfetto Abbiamo consumato tutto il ferro signori Dovremmo anche organizzare un episodio per andare alla ricerca del ferro Dovremmo fare anche dell'esplorazione e un po' di mining signori Dovremmo cercare qualche bella caverna per andare a cercare un pochino di materiali utili Materiali tecnico-tattici Allora... Facciamo una cosa Saliamo sopra la nostra piattaforma di lancio Che ancora non ho deciso signori Come... Come abbellirla Avevo pensato di mettere tutto un giro di quarzo In modo tale da fare Tipo una sorta di... Però... Non mi convince tanto l'idea Ok... siamo arrivati all'altezza desiderata Iniziamo a salire Prendiamo il nostro ascensore Punci ponci po 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 No quella non è la canzoncina La canzoncina degli ascensori Quella è un altro tipo di canzoncina Non mi ricordo Una canzoncina tipica degli ascensori Dun 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 dun... Dun 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 Sbattiamo la testa Ok... Rusciamo a stare... Beh... Direi che così va bene Allora... Ci servono Ehm... Leviamo la carne che però non ci serve Ci servono le catene, sì, e io direi di poter mettere intanto una catena lì, così, perfetto, con la sua bellissima lanterna lì, dopodiché questi li spariamo in maniera bella, prepotente, così, tutto quanto bello, deve essere simmetrico? Non per forza, signori, non per forza simmetrico, ora aspettate un attimo, perché io so perfettamente che se metto sti cosi, no, 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 torniamo su, ok, ok, mi sento più sicuro sulla terra, signori, questi cosi sì, sono utili, sono carini, ma quanto la terra è molto più utile e tranquilla, signori, con la terra sei tranquillo che non caschi, Con la terra stai tranquillo che non caschi, con sti cosi caschi, porca miseria, ok, catena lì e catena lì e lanterna, perfetto, centriamola e mettiamo nuovamente sti cosi simmetrici, ok, così, ma sì, ma chi se ne frega, facciamo tutto il giro, giro tondo, quanto è bello il mondo, casca la terra, speriamo di no, se no caschiamo anche noi e non è una cosa che vogliamo Andiamo avanti di qua, così, perfetto, terra di qui, terra di qui, altra pezzettino di terra di qui, arriviamo a mettere la catena lì, sì, perfetto, così abbiamo una sorta di illuminazione con la catena E poi abbiamo però pure tutti questi cosi di qua che fanno, fanno colore, signori, fanno, fanno luce E questi poi crescono, si allungano, quindi ci viene questa sorta di, di, poi mettere, sento le pollicine dell'ascensore che bollicchiano E le liane no, le liane non ne mettiamo più, perché se no poi diventa troppo, troppo pesante Se questi crescono bene, se questi crescono bene, secondo me viene una cosa abbastanza carina Perché comunque le lanterne fanno luce costante, ci vorranno non so quanti episodi prima che queste cose crescono, però va bene Il problema è che noi non staremo tutti questi episodi qui per vedere crescere queste cose, però stiamo sulla future, signori, prima o poi cresceranno In tutto questo, sì, giusto là, devo mettere C'è qualcosa che non mi torna lì C'è qualcosa che non mi torna lì Scusami, è tutto fatto Che cazzo non è successo, signori? 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok, e qui non è fatto pure così? Lanterna, 1, 2, 1, 2, 3, ok, fammi girare di là Se cado, se cado, 2, 1, 2, 3, ok, ho sbagliato il primo O la nostra piattaforma 2, 1, 2, 3, c'è qualcosa che non torna nella nostra piattaforma, signori Posso dire che sono scemo? O c'è qualcosa che non torna nella nostra piattaforma? E certo, sono scemo io, signori Ah, sono scemo io Sono decisamente scemo io Siamo partiti male Siamo partiti male perché erano 1 e 2 Questo non c'entra, questo non c'entra E poi 1, 1 1 e 1, ok Eravamo partiti male, niente Non Così ora dovremmo essere Quello sta già crescendo Quindi Eh, sì Ci manca forse un po' di luce al centro E la recuperiamo subito Mettiamo tutti e quattro così a giro Tanto con le liane non dovrebbero esserci problemi Mi ha distrutto le liane? No Le liane si fanno il loro bel percorso Lungo la colonna E queste invece vengono illuminate Così Perfetto Abbiamo, sì Decisamente esagerato Però vabbè Chi se ne frega In qualche maniera Allora Si farà, si farà Leviamo tutta la terra Episodio rapido, veloce e indolore Mi piacciono questi episodi Perché li registro velocemente Sono rapidi, veloci E comunque facciamo sempre qualcosa Per migliare il nostro mondo Più o meno Anche se ci vorrà una vita Prima che questi cosi crescano E danno effettivamente luce Però va bene Però va bene Però va bene In tutto questo Per l'episodio di domani Dovrò stare tanto tempo A giocare da solo Perché dobbiamo fare Un sacco di carta Un sacco di vetro Ci servono smeraldi Come se non ci fossero un domani È vero che possiamo fare una cosa alla volta Ma per forza Dobbiamo recuperare Tutte e due le mappe In maniera violenta subito Però Signori Direi che il nostro lavoro Qui è finito Decisamente sì Torniamo giù Rompendoli Ai ai È bello perché tu Mamma mia Non capisci più nulla Recuperiamo quel recuperabile C'è molto poco Decisamente molto poco L'altra terra L'avremo persa No Qua c'è della terra Ok C'è altra terra così Persa qui No Sicuramente ce ne sarà Un sacco persa qua a mare Ma a noi frega poco Signori Decisamente frega poco Ricopriamo la carne Qui Che No Ok Un poco di ordine Nella cacera più totale E Va bene Per ora non rende Signori Per ora non rende Però Anche le lanterne là sotto Sono proprio Un Un Come posso dire Un granello di sabbia Nel 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 deserto Però Però Fanno Qualcosina fanno Speriamo che sti cosi Crescano un bel po' E quindi Praticamente magari Ci sarà la lunghezza di questi Con le liane Che se crescono Come sono cresciute Qua nel magazzino Diventano belle lunghe Speriamo che creschino Anche lì E quindi si riesca A ottenere qualcosa Di carino Detto questo signori Io vi ringrazio Alla guarda questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suoi genti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao